La ferula e l'ulivo, ricchezze del patrimonio naturale della Puglia, sono stati protagonisti del laboratorio di autocostruzione Dalla Terra all'Arte, organizzato dall'Associazione Culturale a Puglia e Terre in collaborazione con Federcommercio. Il laboratorio è stato supportato da aziende del territorio quali le Ruvesi, Ecopolis, Electrosolving SRL, Animalandia, Double P Communication, La Bottega del Preparato a Terlizzi, Sapori di Murgia a Corato. Dalla Terra all'Arte si è articolato in tre giorni e ha avuto come scenario Palazzo Spada. Il 2-3 ottobre si è svolto il corso di lavorazione e assemblaggio di ceste in polloni di ulivo e canne. Docenti del corso sono state le maestre Anna e Maria Antonietta Catino. Come è stata questa esperienza Dalla Terra all'Arte? Bellissima, bellissima. Come prima esperienza è stata veramente bella. Tanto entusiasmo da parte dei corsisti e anche noi ci siamo messe in gioco. Bellissima come esperienza. Stanno ritornando in auge questi lavori? Certo, sì, sì, stanno ritornando perché è un'arte che piace e i giovani vedo anche che insomma sono attratti da questi antichi mestieri che purtroppo non ce ne sono più. Come sono stati questi allievi? Bravissimi, bravissimi perché sono stati veramente bravi nel realizzare i cestini e come i primi cestini sono venuti pure bene. Molto belli, sì, bravi. Venedì 6 ottobre è stato il maestro artigiano e poeta Franco Catalano a tenere il corso di lavorazione e assemblaggio di Sgabelli in Ferula. Frecate tutta, dice la legge. Questo è un paese di campabbone, a sparagno, sbagliò babbone perché era la cosa che mi rimane egli, che si riguoccia ma non fomerebbe. Ho fatto un'aria che sta daendo, tutta la criança, beata ha detto, ma non ho fatto la comandata e non è vasto per nanzalata. Ma l'altra dice, manzo e manzo, se faccio in nanzalata. Buongiorno padre, ma che ho fatto i tuoi mannotti, dà qualche cosa per la saggistrata. Se ne cade un'esponente aperto, il cuore che la mente fa sciacquarete, e il cuore portano da due se trossi, che non vuole mettere la rimossa, e che era parte la soppina, me l'ha d'alzò, che ha sopplato, poi, per qualche altra giusta rida, se la vai, non mi chiedermi come artida. Il padre mi raccomando, che ho portato in pericolando, ci vuole vengono qualche dio, poi non aveva stricchiato migliore. Poi, un padre, 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 un padre. Chi è il padre di quella stalla? Si è un padre, ma un padre. Quindi, adesso, dovete tornare a stalla, un padre. Mi raccomando, mi raccomando, mi raccomando. Mi raccomando. Grazie. Curiosi turisti accolti da Laura Pellicani, Angela Longone e Rosa Camerino hanno potuto ammirare il lavoro dei corsisti intenti a creare prodotti di alto artigianato. Dalla terra all'arte, mi parli di questo progetto? È un progetto che tende soprattutto a mettere in risalto i nostri vecchi mestieri, a valorizzarli, a dare un'opportunità di lavoro per le generazioni che in fondo sono un po' a disagio, in difficoltà per cercare di realizzarsi, insomma inserirsi nel mondo del lavoro. Quindi l'associazione Apulia e Terra è sempre in prima linea nel valorizzare le risorse del territorio? Sicuramente, tenga presente che questo è solo il primo passo di un grande, grandissimo progetto appoggiato anche dalla Federcommercio che nascerà a breve. A fine corso ai partecipanti sono stati consegnati attestato e shopping bag. Pina Picciarelli, la consigliera del PD, ha le prese con uno sgabello in ferula, o meglio con la creazione di uno sgabello in ferula. Cosa ne pensa? Che creare è sempre una cosa meravigliosa, tutto ciò che si realizza con le mani, tutto ciò che è frutto di impegno in campi anche molto diversi da quelli che si frequentano, voglio dire quotidianamente, è sempre motivo di grande soddisfazione. Il ritorno alle origini ruvese, riscoprire il maestro Franco che è una risorsa di questo territorio, riempie una giornata. È stata una bella esperienza, soprattutto appunto per riscoprire le vecchie tradizioni e tutto ciò che comunque ci lega al passato e alla terra che viviamo. Questi corsi servono più che a imparare di nuovo, oltre a imparare i vecchi mestieri, anche a riscoprire le tradizioni e i valori della terra che viviamo. Secondo me è una cosa importante. E perché hai frequentato questi corsi? Appunto più che altro per riscoprire i valori e le tradizioni della terra, non tanto per farlo come mestiere perché insomma almeno per me ne ho già uno che mi porta via molto tempo, però appunto il riscoprire le vecchie tradizioni era una cosa che mi affascinava e infatti è stato così, è stata una bella esperienza da questo punto di vista. È stato annunciato che in occasione del Natale si terrà un corso di lavorazione di ceste in cannucce di plastica, destinato ai più piccoli, vista la grande richiesta. La Federcommercio ha creduto nel progetto Dalla Terra all'Arte? Noi abbiamo creduto da subito in questo progetto perché crediamo che lo sviluppo dell'artigianato locale, lo sviluppo e il recupero delle microeconomie passi dai prodotti della terra. Quindi partire dall'ulivo, partire dalla ferola e partire dai polloni credo che possa riportare e recuperare quegli antichi mestieri che non vanno perduti e che in questi tre giorni abbiamo valorizzato in questa splendida cornice affinché diventino fulcro per la rinascita della nostra città.